Let's play Ciao a tutti scolepeciolini Sono Mammy DD dell'Italian Sharks E sono in compagnia del nostro amato Dalle donne Emanuele 98 Dai Eman Dicci Quante donne ti stanno amando In questo momento Dacci un numero Un numero? 10 10 dai dai facciamoci Comunque ragazzi Se mi vedete mi sentite diverso E perché mi sono Trasferito nel senso che sono stato Buttato fuori da camera mia E sono in un'altra si sono stato sfrattato Ho avuto una licenza di sfratto E mi hanno buttato in un'altra stanza Però è molto più figlio È gigante Però rimbomba Quindi non ci possiamo fare niente Quindi possiamo fare la discoteca Si Vabbè va Strunz Strunz Che cosa facciamo oggi? Allora Eman un breve riassunto Dai vai No prima cosa Facciamo gli agoni di Pasqua Giusto Bravissimo Bravissimo Bravo Madonna Madonna Ragazzi un mi piace Per Eman che si è ricordato Di fare le auguri di Pasqua Va capire che se non le desce Oh aspetta Eman intrattieni L'intrattieni che prendo una cosa Aspetta due secondi Mi piace e piace Vabbè no Allora oggi in questo video No allora ragazzi Niente Allora veramente in questo video Volevamo Dovevamo dire Ecco Ciao ragazzi Ciao ragazzi Aspetta zitto Questa è per voi E' un regalo virtuale Che vi fanno gli Italia Shucks Un nuovo della Lind Oh a cagare Lo sto facendo passare Per la porta USB Aspetta Ritira Sto in upload Stai scaricando Sto scaricando Ragazzi Un nuovo della Lind per voi Mettetevi piace Se vi piace La cioccolata Vabbè Vabbè Comunque ho interrotto qualcosa importante Che stavi dicendo Scommetto di nuovo Stavo facendo di assurdo Come hai detto tu Mi sono affermato Al vincitore del contest Ho detto che Domani è Pasqua Ci facciamo come Porci Poi è Pasqua E se ci andiamo a fare la campagnata Sotto l'acqua Sotto l'acqua Cioè ci tengo a precisare Sotto l'acqua Sicuro E ma non c'è una Pasqua E veramente Se non piove E veramente Piove sempre Va bene Allora dai passiamo Al primo argomento di oggi Il primo argomento di oggi Ci passo Ci passo Giuro F3 Sì Sono passato Sì mi vedete allo schermo Allora ragazzi Come vedete Il mese scorso Abbiamo chiuso Con Yohoido Che ha vinto Un mese di registrazione Con noi Ho un video Tutto dedicato a lui Quindi Yohoido Vieni Vieni da noi Vieni bello Sul nostro TS Che ci accordiamo Su come registrare Insieme Comincia il contest Ovviamente Di questo mese Mese di aprile E vediamo Che in testa La classifica Signore Davanti a tutti Abbiamo Soldati neri E ma tu fai Oh Fai oh Oh mio Valentino Rossi Valentino Rossi Oh Oh E ma devi fare Oh Bravo Poi ci sta Gabriele Bonini Oh Ma è troppo buoni Troppo buoni E Nicolás Reynoso Io dico solo i primi tre Anche se ci sta Peperozzo Che fa rima con Baccarozzo Tra i primi sei Cavolo Nicolás Non mi piace Ma Nicolás Ah ragazzi Ragazzi Mi è venuta in mente Una roba Fran Ciprisco E' un piccolo Giovane youtuber Che ha cominciato A usare i primi Quattro iscritti E che è un nostro fan Ci chiese alcune informazioni Un po' di tempo fa Io ho iniziato con il suo canale Quindi se vi fa piacere Non ci ha chiesto di sponsorizzarlo Ma mi sta simpatico E se volete Andate a dare un'occhiata Nel suo canale Se vi piace Vi iscrivete Sennò fate Che cavolo vi fare Soprattutto fa Fa video di God Di FIFA Si fa Street Si fa 15 Si fa 3 Si fa 4 Ma che cazzo stai dicendo Però a FIFA è ragazzo Perché è un gomine Che ha molta FIFA Sì si è cagasotto Ho capito Ok Passiamo all'argomento del giorno Passiamo all'argomento del giorno Ci abbiamo delle domande Passiamo i casatieli Come si preparano i casatieli? Allora con l'impasto Con un po' di versare Dura ovviamente Che ci vuole? Ci vuole un po' di pomodori Eh ma facciamo la prova del cuoco Dell'Italian Shark Esatto Facciamo cotte frullate Ve l'ho detto Cotte frullate Cotte frullate Ok Dopo i casatieli Ragazzi rispondiamo Ad una delle domande Che ci ha fatto Yohoido Comunque mi sento un deficiente A pronunciare questo nome Allora Si Perché è giapponese Capito? Allora la prima domanda È Sempre fatta da lui Avete degli hobby? Aspettate al giorno Quella è una domanda Hot Ma quante volte ti speppettate Dalle 15 alle 20 Dipende Circa una media Di una volta all'ora Mi alzo pure la notte Ma quello è l'orario Per 5 ore Vai a cagare Comunque Ci chiede Se abbiamo degli hobby Quindi Ema Tu che hobby hai Tipo lettura Praticare sport Speppettarti In giocare In giocare In giocare In giocare dai Sì Possiamo considerare Attualmente Niente Cioè no Sì Attualmente Niente Prima Praticavo sport Ti sto dando un suggerimento Anche se tu non mi vedi Dai Dillo Vabbè che posso giocare Sì Vabbè Ma vai a cagare E che cazzo E sei proprio un pezzo Quindi ora giochi solo ai videogame Basta Purtroppo sì Cioè sei una persona vuota Sì Oppure se volete Cioè se sei un hobby Vogliamo gli amici Ah Sì Diciamo Allora Visto che siete spacciati Non è più online Non perché ha lasciato il canale Attenzione Perché sta avendo problemi personali Quindi Allora La mamma La mamma l'ha beccata Attifettarsi Queste sono le voci Queste sono le leggende metropolitane Queste sono le leggende Che si dividono Però Però Sapete com'è Potrebbe pure essere No comunque scherzi a parte Siete spacciati Se ci stai guardando Sicuramente lo stai facendo Scrivi qui sotto La risposta a queste domande Ovviamente Firmando Siete spacciati Così i nostri ragazzi Possono leggere Anche le tue risposte Seconda domanda No però io devo rispondere Alla prima Prima Vabbè Comunque Che cosa Quali sono i miei hobby I miei hobby Io leggo Leggo un po' Libri ogni tanto Mi piace Ogni tanto Ogni tanto Quando Quando sono ispirato Tipo quando Sto lasciando andare Della roba Leggo Ah ho capito Ti hai capito Non so se Non ho capito Oppure che altro faccio Oppure che altro faccio Mi piace Mi piace Mi piace Che ne so Oltre a me giocare No Non mi piace giocare Con le zucchine Oltre a giocare Videogame Mi piace Tutto quello che è Grafica Video Quindi Mi diverto Con questa roba qua E che che Cioè sei quello Ah no C'è un'altra cosa Che mi piace Mi piace fare un'altra cosa Sei zitto Non fare un cazzo Non fare un cazzo Cioè stare Stare vicino al mare Con un cocktail in mano Un cappello di paglia A petto nudo E non fare un cazzo Con i peli sopra Con i peli sopra Ma non sul Sul cocktail Ma che da dire Quello che hai detto Lo vuole fare Il 70% Quello è un mio hobby Però 2 euro 2 euro 2 euro 2 euro 2 euro 2 euro Vabbè Ora rispondiamo anche Alla seconda domanda Ragazzuoli Ragazzuoli Dove ci chiedevate Se siete spacciati Emanuele98 Hanno un loro canale YouTube Visto che sto iniziando A scattare Stop un attimo il video Ci vediamo Un po' Ed eccoci ragazzuoli Pronti per la seconda domanda Dopo aver dato Una botta di ventilatore Al mio computer Seconda domanda Era Se siete spacciati Emanuele98 Hanno un loro canale Allora Comincio io A rispondere Che Questo Non è Il canale Di Mamidd Anche se vedete La mia faccia Punto Quindi Mamidd Non ha un suo canale Quindi O avete fatto Una discriminazione Razziale Non chiedendo Di me Se io ho un mio canale Oppure avete pensato Che questo è il mio canale E questo non è il mio canale Chiaro? Ora Ema Rispondi alla domanda Tu Perché io mi sono offeso Allora Mi ci metto E stai di cazzo Allora Mamidd Già l'ha ripetuto In un video Non ricordo Quale Che è il canale Di tutti e tre Però Vedete sempre Vedete sempre La sua faccia Oppure Perché lui Sa i video Scusate Perché lui Ha un pc Meglio del nostro E ha la connessione Migliore della nostra Aspetta Ema E ci tengo a precisare Che il mio pc Ogni tanto Gli dovrebbe Da una botta Di ventilato È da dire Che probabilmente Io potrei pure Reccare io Perché il pc Diciamo È buono Il problema È la linea Che ci metto A quattro ore Per caricare Un fottuto video E io Quattro ore Al giorno Per caricare Un video Quattro ore Solo per caricarlo Poi dobbiamo renderizzarlo E ci vogliono Quelle altre 24 ore Per renderizzarlo Per vedere Il computer Che fa i caricamenti E io non devo fare un cazzo Praticamente No Io invece riesco In 15 minuti No 10 minuti A uploadare un video Su youtube E a renderizzarlo In un'ora Quindi Ovviamente Qua la linea In Italia Eh sì È a chiazze Come la macchia mediterranea Ok Quindi vi abbiamo risposto Siete spacciati E Mario 98 Non hanno un canale Ragazzi Quindi non rompete le palle C'è Bulls C'è Bulls Io e Emma Andrò in chiusura Perché il computer Sta scattando forte Quindi ci vediamo Nel prossimo vlog Ancora auguri Di Pasqua Con l'uovo di Pasqua Della Lind Ci vediamo al prossimo episodio Ciao belli Ciao 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 Ciao